Cinque tecniche maschili per manipolare le donne. Allora, gli uomini utilizzano delle strategie, alcuni consapevolmente, cioè lo fanno deliberatamente, altri spontaneamente, diciamo così, ma non per questo meno efficacemente, e cercano di manipolare le donne, cioè di ottenere a condiscendenza, di ottenere, diciamo, quello che vogliono, insomma, lo scopo talvolta è quello. Quali sono le tecniche maschili per manipolare le donne? Intanto, devo dirti prima che se per caso individui qualche uomo, qualche maschio che mette in atto questo tipo di tecniche, questo tipo di strategia, è a che fare con un manipolatore. Non è detto che sia anche un narcisista, perché non tutti i manipolatori, ovviamente, sono narcisisti, ma tutti i narcisisti sono manipolatori, quindi è una corrispondenza non bionivoca. Però, comunque, anche uno che non è narcisista, ma che è manipolatore, fai bene a togliere i tuoi coglioni, perché fondamentalmente non ti porterà assolutamente nessun beneficio. Questo devi prenderlo in considerazione, è un dato fondamentale di cui devi tenere conto. E come fare, quindi, come gestire queste situazioni, come fare in modo che queste persone, questi manipolatori, diciamo, non condizionino pesantemente la tua vita? Beh, intanto tieni presente che la manipolazione ha uno scopo, quindi c'è sempre uno scopo. La prima tecnica è quella di squalificarti un pochettino attraverso dei commenti acidi programmati, perché squalificando te, se accetti il commento acido programmato, lui risulterà di avere un maggiore potere sociale, diciamo così, nei tuoi confronti, quindi si sentirà più forte, si sentirà di avere potere, e tu ti sentirai più debole, quindi soggetta, diciamo così, ad essere manipolato. Quindi questo, il commento acido programmato, può essere quello del tipo, che bella gonna che hai, anche mia nonna ne ha uno uguale, oppure, ma cavolo, che naso? Io sai che sono un esperto di digitologia, è uguale, identico a quella di una sacerdotessa nefertari, quindi, insomma, inizi a somministrare tensioni emozionali. Il commento acido programmato, se viene accettato, non sembra, ma condiziona moltissimo, quindi occhio a quegli uomini che, perché poi ci sarà da parte tua inconsciamente la decisione, la volontà di voler essere una donna che piace, di voler, insomma, in qualche modo attrarre comunque gli uomini. Questo scatta, scatta, fondamentalmente scatta. Ecco, quindi che devi stare attento, attenta, quando qualcuno, in qualche modo, cerca di condizionare, diciamo, di condizionarti attraverso dei commenti acidi programmati. Una seconda tecnica maschile per manipolare le donne è quella di dirti tante belle cose, tante belle parole, quindi, ma poi, dopo che è venuto a letto con te, tendere a sparire, insomma, fin tanto che non si ricarica e comunque magari ha di nuovo l'esigenza, insomma. Quindi, una tecnica banale, appunto, è quella di promettere il matrimonio per portarti a letto, ma fondamentalmente l'obiettivo è portato a letto. Quindi devi capire che le parole che un uomo dice contano poco, le promesse che fa contano poco e tu devi stare attenta a come si comporta, perché questo è una manipolazione banale, diciamo, ma è sempre, comunque, una forma di manipolazione. Quindi tieni conto anche delle caratteristiche di quest'uomo, perché se ha una vita completamente diversa dalla tua, una situazione è completamente diversa dalla tua, beh, significa che probabilmente non è la persona, non è la persona giusta per te. Devi aumentare la selezione, cioè selezionare maggiormente, non accontentarti di quelli che si manifestano così, tanto per, perché non otterrai nessun risultato, insomma. Quindi valuta attentamente prima di smollarla, ad esempio. un'altra tecnica di manipolazione è quella di influenzare il tuo ambiente, ad esempio cercare di piacere i tuoi amici, cercare di piacere eventualmente se riesci a infiltrarsi anche i tuoi parenti, i tuoi genitori, insomma, in modo tale che tu, da un certo punto di vista, pensi anche che sia la persona giusta, ma in realtà attraverso la seduzione, tra virgolette, dei tuoi amici, dei tuoi genitori, di quello che è, facendoti percepire, facendosi percepire come una persona di valore, una persona di qualità, una persona, insomma, ad altri tempi e tu ci cascherai fondamentalmente. E poi, una volta anche qua, che avrò tenuto lo scopo, magari si allontanerà e non gli interesserai più. E' un'altra strategia di manipolazione spesso utilizzata. E poi, un'altra tipica anche dei narcisisti è quella del love bombing. Non è facile individuare, ma quando una persona da subito, dall'inizio, ti dice che sei fantastica, ti dice che sei stupenda, ti dice che ah, andiamo in crociera, facciamo qua, facciamo là, dimentichiamo temporaneamente tutto il resto, isoliamoci dal mondo, siamo io e te, bla bla bla. Insomma, o è un pazzo e quindi ti conviene mollarlo, o è uno che ti fa love bombing e quindi ti conviene sempre mollarlo. Quindi, quando uno si comporta in questo modo, mollalo. Il love bombing non è un sintomo d'amore. Oppure, un'altra, diciamo, manipolazione che utilizzano soprattutto quando hanno a che fare con una donna con una sindrome da croce rossina, ad esempio, una donna, diciamo, come si può dire, che ha avuto un conflitto materno, quindi tende ad avere la sindrome con una croce rossina e si presenta, diciamo, nei confronti degli altri, lui lo capisce, soprattutto nel ruolo di mamma, diciamo così, accuditrice, di infermiere, eccetera, e ti manipolerà per ottenere quello che vuole, con delle scuse, ho perso il lavoro, tutti sono contro di me, sono stanco, sono depresso, sono triste, bla bla bla, ho avuto storie difficili, mi comporto in questo modo, ma in realtà c'è un motivo, insomma, ecco, se noti tutte queste cose, fondamentalmente che fai con un manipolatore, sono cinque tattiche molto comuni, utilizzate, cerca di tolto dai maroni. Per questo video è tutto, seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale e su TikTok e ti ricordo di iscriverti al canale, iscrivendoti al canale attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video.